Il capitolo dei linfomi non-Noschkin si è arricchito in questi ultimi anni di straordinari nuovi contributi, questo ha portato a un sostanziale cambiamento nell'approccio clinico dei pazienti con linfoma non-Noschkin. Nell'affrontare questo capitolo il dottor Bonifacio e Dio abbiamo cercato di organizzare tutte queste conoscenze con una duplice visione, quella classica dei capitoli dei libri specialistici, organizzata come tutti i capitoli in generalità, epidemiologia e quant'altro, ma anche con un occhio particolare all'introduzione di alcuni aspetti innovativi sul piano della comunicazione e sul piano della fruibilità delle informazioni. Il risultato finale è quello di una sintesi di tutte queste conoscenze che crediamo possano essere fruite in modo pieno non solo dagli specialisti che forse hanno meno bisogno di altri di questo tipo di strumento conoscitivo, ma anche da chi se ne occupa marginalmente, dagli studenti, dagli non nematologi, dagli internisti e da quant'altro che vogliono arricchire la loro conoscenza su questo tipo di patologia.